Dopo le devastazioni del terremoto, una bella notizia per la diocesi di Carpi. Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina ha annunciato la imminente beatificazione del servo di Dio Odoardo Focherini. La celebrazione avrà luogo infatti a Carpi il prossimo 15 giugno e sarà preseduta a nome del Papa dal Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Questa beatificazione, ha detto Monsignor Cavina, è segno indiscutso della fecondità della Chiesa locale. La sua capacità di amare il Signore, mettersi al servizio dei fratelli è per noi un forte richiamo a non lasciare inaridire la nostra fede. Odoardo Focherini fu esponente dell'Azione Cattolica e amministratore dell'Avvenire d'Italia e morì martire in odio alla fede nel 1944 nel campo di concentramento di Ersbruck in Germania per aver salvato più di 100 ebrei dalla deportazione.